Buche come voragini, asfalto ceduto in diversi punti e cerchioni a lato della carreggiata. La strada Falciraga è un'altra via del territorio comunale lasciata al completo degrado da almeno due anni. L'associazione Fanese Quattro Quarti ha più volte e a proprie spese effettuato la manutenzione, ma nonostante questo l'area rimane molto pericolosa. A rischiare tutti i giorni per l'assenza di illuminazione pubblica e della segnaletica stradale non sono solo gli abitanti, ma anche i clienti del ristorante lì vicino. Indecente completamente, dopo gli ultimi temporali, è pericolosa, molto pericolosa. Chiediamo di ripararla presto perché ci sono due attività. Poi quello che più ci ha scocciato, hanno portato il rullo per farci vedere, per farci star buoni, è stato un rullo compressore, è stato dieci giorni fermo tra la siepe, il rullo è sparito. La strada è rimasta com'è. Diverse volte l'asfalto lo avete rifatto a vostre spese? Noi il primo asfalto qui quando abbiamo aperto la quercia l'abbiamo fatto tutto a nostre spese. Poi qui attorno alla quercia è stato rifatto altre volte a nostre spese. Dopo i punti più lunghi li hanno fatti una volta. Poi li hanno fatti perché, portando sulle fognature, la ditta che ha fatto i lavori è stata costretta a fare l'asfalto. Non è che ha spesi i soldi il comune. Il comune ce ne ha spesi ben pochi qui per fare in questa traversa dei lavori, per il momento. L'asfalto ha ceduto, è una situazione che continua a rimanere così da due anni, ma oltre a questo ci sono anche buche, anzi voragini per tutta la strada. Sì, per tutta la strada. Boragini grossissime che si vedono al momento, poi non abbiamo la nostra, anche la strada, la Fornaciotti. Questi addirittura là sono proprio abbandonati, non hanno neanche l'acqua comunale. E la strada tra lame, erbacioni, tutto, bisogna allargare per passare con la macchina, uno davanti che fa il posto. Ci sono dei cartelli almeno che segnalano la situazione? No, sono passati i mezzi del comune, che li abbiamo visti, visto come era la strada, almeno vuoi mettere un segnale di pericolo, qualcosa, perché un motorino, una macchina si rompirà. Passa di notte un motorino qualcosa, succede il morto? Dopo, non lo so.